Che ci fanno? Un elfo, un uomo e un nano nelle terre del Mark. Parlate in fretta! Inseguiamo gli Uruk-hai attraverso la pianura a Ovest. Hanno catturato due nostri amici. Cercate i vostri amici, ma non confidate nella speranza. È proibita in queste terre. Ci siamo persi. Gandalf non voleva che prendessimo questa via. Non voleva che accadessero molte cose, Sam. Non può essere. Torno da voi ora, al mutare della marea. Le forze di Sauron hanno iniziato il loro attacco. Sta usando Saruman per distruggere la vostra gente. Erano disarmati. Non se l'aspettavano. È solo un assaggio del terrore che Saruman seminerà. Dovete combattere. Non rischierò una guerra aperta. La guerra aperta incombe, che tu lo voglia o no. Un nuovo potere sta sorgendo. La sua vittoria è vicina. Un esercito nato con un unico scopo. Distruggere il mondo degli uomini. Devi condurli al fosso di Elf. Per ordine del re, la città deve svuotarsi. Lei dov'è? La donna che ti ha dato quel gioiello. L'alleanza tra uomini ed elfi si è rotta. Il nostro tempo qui sta finendo. Il tempo di Arone sta finendo. Lasciala andare. Dov'è? Leghiamola e lasciamola qui. Conosci la strada per Morda? Non ci sarà un'alba. L'agione! Per gli uomini. È l'anello. Prodo! Sei possessato di voi. Tu hai il dono della preveggenza. Dimmi cos'hai visto. Lui non tornerà. Le difese devono reggere. Reggeranno. Non c'è nulla per te qui. Solo la morte. C'è la speranza.